no 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 signori e signori buonasera e bentrovati dunque e finiziato al e stanno ormai diventato se sono molto contento allora va bene giro così arrivo allora vogliamo preparare una cosa in cucina gerden oddi benvenuto a compila quindi va eccoci qua buonasera per una nuova live sono stanchissimo ho fatto una giornata un po' impegnativa di di consulenza call allora intanto immagino che sono tutti in vacanza quindi questa sera si farà si parlerà alla luna abbiamo iniziato un argomento e dobbiamo terminarlo quindi predisponiamoci intanto facciamo ripartire the music che ci accompagna così sperando che non ci concili troppo il sonno allora questo va icona vedo che holistic che è già collegato ciao holistic ventordici ore esatto è che la misura è l'unità di misura standard delle delle giornate lavorative ma da sviluppatore direi che tra l'altro ne approfitto per segnalarti che ho rilassato le come dire le mire dell'automod e adesso è un pochino più dovrebbe essere un po' più tollerante verso i messaggi lunghi sono passato dalle impostazioni qualche giorno fa ho detto beh già che ci siamo diamo una diamo una una rilassata queste troppo stringente visto che la volta scorsa ho visto passare una coda dietro di me è il gatto che che si fa qualche viaggetto allora dunque iniziamo con l'argomento così non facciamo troppo tardi che già è l'argomento è spinoso e adesso chiudo anche qui qualche finestra ho di nuovo le slide dell'altra volta ma giusto come come guida allora questa è un po' la seconda puntata il secondo appuntamento di un argomento che avevamo iniziato la volta scorsa di non mancherò di testare i limiti ecco qua così fa il beta tester ho aggiunto anche delle nuove cose sul menù non so se chiama il menù dei cheer perché su twitch devo ancora come dire mi devo ancora fare le ossa quindi come dire un po' di gadget che si possono utilizzare dei meme così pian pianino mi sto arricchendo e sto facendo sto rendendo il canale sempre più stupido però vabbè comunque purtroppo è così almeno ci si diverte visto che si parla di argomenti seri almeno ci si diverte un po' di più nel fare queste queste trattazioni allora la volta scorsa abbiamo iniziato a parlare di codice pulito che come scrivo sui social non è prendere il codice sorgente lavarlo con il detersivo con sapone soap come web service arrest come ha scritto l'istica oggi su instagram perché ero impegnato però ho letto e quindi ho detto intanto mettiamo il like e poi dopo tanto rispondo stasera ma sono una serie di pratiche diciamo ascoltando in silenzio che di sta roba non so nulla come si fa ad ascoltare in silenzio si guarda le figurine allora dunque intanto sto cercando di raccapezzarmi ok così ho il mio schermo come scrivere codice pulito oggi ho fatto un po' di code review da un cliente quindi sono fresco alcune di queste cose le ho viste le ho viste proprio in diretta quindi sono come dire delle regole condivise ma non sempre applicate però non è che ci sia come dicevamo l'altra volta nulla di male sono dei suggerimenti che il mitico anche il bob che scrive libri e pubblica filmato su youtube fa le conferenze ha un po catalogato per cercare di dare una mano a chi sviluppa nello scrivere codice che oltre a essere come dire funzionante che questo è un po' è un po' l'obiettivo deve essere anche manutenibile e soprattutto accessibile da la stessa persona che l'ha scritta quando torna a prenderlo in mano mesi dopo e anche da eventuali colleghi quindi programmando come diceva la famosa slide adesso facciamo un attimo una carrellata di tralasciando io che mangio il sushi di quello che avevamo visto ovvero perché parlarne perché un costo perché comunque dilata i tempi rende difficile fare le stime quindi codice scritto male è un ostacolo verso l'evoluzione di quello che è un prodotto quello che dia quello che è un software che poi viene venduto ai clienti e deve essere quindi espandibile manutenibile dando delle indicazioni delle stime certe più possibile per eventuali modifiche migliorie e quant'altro quindi questo per chi si è perso live della settimana scorsa può andare a recuperare perché è ancora qua su twitch e anche su youtube quindi ci sono tantissime ragioni per scrivere codice pulito a parte l'amor proprio e il fatto della chiarezza poi le tecniche ci consentono di accedere a delle tecniche delle pratiche come unit testing tdd quindi pratiche moderne che però appunto essendo come dire moderne sono accessibili solo scrivendo codice in un certo modo è più facile capire la logica manutenerlo aggiungere qualcosa andando ad aggiungere codice non modificare quello esistente mantenere una struttura semplice e anche come dire consistente in questo caso ci si riferisce al fatto di utilizzare dei nomi chiari per identificare le varie cose che siano classi che siano nomi di variabili sono tutta una serie di tecniche che abilitano l'accesso a dei pattern che altrimenti sarebbero preclusi e non si riescono diciamo a raggiungere in in altro modo il debito tecnico buono debito tecnico buono è quello che si può come dire tollerare perché hai consegnato il programma e fatturato quello che ti consente di fatturare teoricamente è buono si è abbastanza impossibile secondo me non sviluppare senza accumulare un pochino di debito tecnico ok poi c'era la galleria degli esempi tipo procedure con milioni di righe di codice all'interno eccezioni che vengono catturate e rilanciate come se avessero bisogno di amplificazioni c'era anche un cenno alla alla questione dell'idea di affrontare in seguito come qui c'è un esempio di commento inutile i parametri delle funzioni che non sono come dire battezzati ovvero non hanno un'indicazione nella chiamata oggi ne ho viste in un codice di un programma che ho guardato c'erano dei metodi molto con molti parametri c'erano degli uno meno uno zero meno uno che non sapevo a cosa si riferissero e quindi senza andare a vedere il codice questa è una cosa abbastanza frequente la leggibilità dei parametri e il poter gli attribuire un significato senza andare a vedere poi la dichiarazione di quella che è una funzione o di un metodo l'uso di termini per dire che non sono che sembrano inglese ma non sono corretti quindi o il mescolare le lingue quindi vabbè pezzi di codice che sembrano apparentemente corretti ma poi se si esamina la struttura cioè qui a netto della scelta e di quante ovviamente opzioni abbiamo a disposizione possiamo facilmente identificare il fatto che più roba aggiungiamo più ci spostiamo a destra e quindi questo non può essere una c'è una ripetizione di funzioni di valori che potrebbero essere qui i type to lower potrebbero essere eseguiti messi in una variabile e confrontati di volta in volta con un numerativo fare un ciclo sui valori del numerativo cioè si vede a occhio che c'è qualcosa che non funziona tutti questi esempi abbiamo diciamo cercato di dare una connotazione a quello che è il codice cattivo ma anche il fatto che comunque non possiamo fare a meno di scriverlo non perché siamo potremmo anche solo un po lavativi ma è che come dire a meno che non sia un hobby se lo facciamo per lavoro abbiamo fretta di rilasciare di andare a casa abbiamo magari delle abitudini pregresse e farlo con l'idea di appunto ristrutturare in seguito come dicevo holistic dal punto di vista del del tecnico la deriva a destra sì esatto penso si intenda questa da oppure lo chiamo codice aduken perché una volta ho trovato qualcuno che aveva disegnato il personaggio di street fighter che spingeva il codice con la come dire la con con la bolla del della 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 mossa di street fighter che spingeva il codice verso destra perché era tutto strutturato con come soluzione l'uso degli early return non so se è quello a cui penso cioè il fatto di anticipare delle verifiche con delle if e uscire ho il gatto che cosa hai anima in pena anche il gatto vuole dire la sua sul codice cattivo lui al massimo dice la sua sui croccantini cattivi ma sul è un po innamorato e sul fatto di poter posticipare il come dire la sistemazione del codice è una cosa che in realtà si fa al di là delle battute però qui c'è la legge di leblanc che dice che ogni cosa che viene fatta dopo later equals never cioè non verrà non verrà mai fatta adesso questo non è propriamente vero sempre però diciamo che bisogna anche avere il coraggio dopo di chiedere di allocare delle delle giornate delle ore anche magari delle giornate che non sono magari da fatturare perché servono in modo da il progetto magari stato rilasciato ma da mettere mano al codice in modo da renderlo come dire più bello da da manutenere e se questo non ha un vantaggio diretto per i per i clienti dal punto di vista del del fatto di dargli del valore e non viene neanche pagato non sempre il management dell'azienda è d'accordo di consumare ore ovviamente di coding per sistemare il codice quindi non è sempre la regola d'oro è scrivere il codice come se colui che lo deve poi mantenere un psicopatico violento che sa dove vivi questa è quindi maggiore qualità avevamo visto come non scrivere più quindi codice cattivo e mantenere anche un occhio sulla qualità intesa come sempre qualità di manutenzione quindi non è la questione di usare dei nomi di variabili belli cioè non è da scrivere bello ma pulito ovvero che rispetta tutta una serie di crismi che sono contenuti in questo libro clean code dove robert martin spiega con degli esempi in java ma sono esempi che possono essere rapportati a qualsiasi linguaggio in certi casi vabbè a seconda del linguaggio ci sono alcune scritture di codice che magari ci sono altre no però alcune regole diciamo che sono prescindono e qui c'è la massima di questo libro che dice che rende il tuo codice leggibile è tanto importante quanto renderlo eseguibile quindi questo è proprio il motto io ovviamente non l'ho letto per prenderlo come mantra e diventare particolarmente schizzinoso però quello che volevo un attimo approfondire era una serie di regole che magari alcune sono intuibili altre sono meno banali effettivamente per scrivere del codice che si possa ritenere più come dire più efficace avendo però qualcosa che attesta che ci sono questi vantaggi e quindi non è che sto facendo questa cosa come dire per per consumare prendere soldi inutilmente ma ha un suo valore debito tecnico lo paghi presto o tardi scrivo listi se ti va bene nel transitorio sì questo è quello che dico anch'io poi sulla premessa perché comunque almeno che non sia un prototipo prima o poi se il codice lo deve riprendere in mano se sei stato particolarmente ci hai buttato tutto dentro così com'era non mi ricordo se in questo libro o se l'ho sentito in giro a volte si fa il paragone con i vestiti cioè come se io mettessi nell'armadio i vestiti alla rinfusa è chiaro che magari sul momento fare così e invece di metterli ordinati mi fa risparmiare tempo ma un secondo in un secondo momento se devo cercare un vestito ci metterò più tempo non è detto che questo diventi un problema insorbontabile ma magari inizia a volerci più tempo e più tempo ancora e questo continua a aumentare e ogni volta non so quant'è questo tempo perché a seconda di dove si trova il vestito e la fortuna che ho e quindi se quel tempo va convertito in denaro potrebbe essere che una volta ci va bene può essere che un'altra volta accada che abbiamo stimato ci mettiamo più tempo e a quel punto perdiamo perdiamo denaro quindi il tempo appunto del fixare regressioni giustamente come scrivi il costo della qualità eccetera aumenta il costo delle evolutive e questo è proprio il problema perché molto spesso le evolutive sono quelle cose con cui chi sviluppa software può andare a recuperare magari del denaro perché offre delle evoluzioni a programma che magari nella fase di prima stesura c'è l'analisi c'è tutta una serie di fattori che è facile che portino via un pochino di tempo e che rendano diciamo che creino dei contrattempi ma una volta che software in produzione e si sa più o meno come si dice nel gergo tecnico il giro del fumo su quelle piccole richieste che hanno molto valore per il cliente si può anche fare un po' di come si dice di cresta e comunque vendergli la caro prezzo cioè dopo viene la parte teoricamente bella e invece molti preferiscono la prima parte dove si codifica da zero si fa un progetto nel momento in cui è terminato diventa legacy ovvero non lo si vorrebbe toccare più i tempi che ha richiesto in più si ignorano e non si riesce più a stimare magari come aggiungere delle cose e farsene anche pagare starci dentro quindi un po' di cose tra le cose che abbiamo visto era l'importanza di scegliere dei nomi come dire efficaci per qualsiasi cosa che siano variabili costanti metodi o parametri classi package perché ogni cosa nel codice ha un nome e quindi è importante sceglierlo quindi se lo scegliamo provvisoriamente è bene andarlo a rifattorizzare usando i tool che l'ambiente di sviluppo il tool che usiamo di sviluppo ci mette a disposizione fare refactoring in poche parole usare dei nomi che non diano delle informazioni forvianti ad esempio che non contengono una parola array poi magari una lista o qualcosa del genere e che rispettino il criterio è stato battezzato intention revealing dicendo che deve rispondere a tutte le possibili domande ovvero non mi deve lasciare dei dubbi su qual è lo scopo per cui è stata introdotta una variabile una classe quindi c'erano un po' di esempi in codice ad esempio qui il tempo trascorso in giorni che qui è espresso con una variabile di e c'è il commento qui ovviamente il commento aiuta ma se io cerco in giro nel codice troverò solo dei riferimenti ad e dovrò andare a vedere questa dichiarazione sempre se uno è bravo e ha messo il commento per sapere a che cosa serve mentre se noi usiamo un nome significativo come l'upset time in days non ci sono dubbi perché lì è tempo trascorso in giorni cioè non ci sono non abbiamo dubbi su quello che contiene quella variabile ovviamente senza esagerare però comunque sono nomi un po' lunghetti ma non sono così lunghi ad esempio questo esempio di codice ad esempio questo esempio avevamo delle costanti le abbiamo trasformate cioè abbiamo dei valori letterali le abbiamo trasformate in costanti in modo da dargli uno scopo e sono stati usati dei termini meno generici ad esempio list o even number list cioè per indicare che è una lista di numeri pari che il caso di che un contatore qui addirittura è stato battezzato con current number per dire è il numero che stiamo valutando vediamo se è pari l'aggiungiamo alla lista dei numeri pari cioè qui forse l'esempio è un po' eccessivo cioè non è che il codice di sinistra sia sbagliato però appare più semplice e probabilmente lo è ma perché l'esempio è un po' come dire abbozzato però in un caso diciamo per sapere la variabile che cosa contiene quella list noi dobbiamo esaminare il codice vedendo cosa ci finisce capiamo qual è il suo scopo nell'altro caso il nome dice tutto questo è un po' quello che dovrebbe quindi evitare di forviare cioè di usare dei nomi che facciano pensare che una cosa abbia uno scopo e un contenuto diversi da quelli che in realtà ha adesso vado veloce perché l'altra volta li abbiamo visti tutti nomi di classi ad esempio che contengono dati diversi di un prodotto uno si chiama product info lato product data così come ci sono le classi product manager product handler cioè ok è un manager un handler ma che cosa mi stanno a gestire evitare degli acronimi che non si riescano a pronunciare in quanto se fate analisi quando scrivete l'analisi non riuscirete a pronunciare senza sembrare degli idioti e comunque al di là di non essere così professionale si fa anche fatica a dire guarda devi modificare invece che generation stamp io vado a modificare gen y md cioè diventa difficile da pronunciare e quindi a volte ho visto delle abbreviazioni spinte dove c'è un'abbreviazione di una parola che mancava una lettera sola quindi non è che insomma bisogna siccome sono cose che mi sono capitate sotto gli occhi tutta la settimana cioè non sono banali perché molti fanno fanno così e tutte queste come dire violazioni a questa regola fanno sì che nel momento in cui si legge il codice si debba continuamente fare uno sforzo per individuare degli obiettivi degli scopi l'utilizzo di una variabile quello che diciamo è il suo impiego all'interno di un metodo che ha magari un nome non chiaro un tipo di ritorno con un nome che è forviante perché si chiama race una lista o viceversa cioè è tutta roba che aggiunge tempo a quello che è l'interpretazione del codice e che dovrebbe essere il più veloce possibile soprattutto e sottolineo soprattutto nel momento in cui si vanno come dire a cercare anche dei bug perché magari qualcuno come dire ci sta segnalando un problema e quindi qui si è spento tutto ok andando avanti quindi avevamo non usare dei nomi con lo slang e altre cose del genere poi intanto guardo la chat perché ho il telefono che si è completamente spento purtroppo e quindi non riesco più a gestire ok forse l'ho fatta e quindi questo un po' per parlare di quello che abbiamo visto l'altra volta e poi ancora che abbiamo evitare sì di usare termini diversi per le stesse operazioni e quando dovete modificare un nome e se avete un'idea migliore di quello che ha sviluppato modificatelo cioè nel momento in cui lavorate con altri il clean code andrebbe applicato in maniera come dire il più possibile sempre quindi o il codice lo isolate oppure andate come dire non dico a migliorarlo ma comunque a rifattorizzare in modo che rispetti questi canoni al posto di chi si è dimenticato di farlo e in questo modo prendete un po' due piccioni con una fava perché senza come dire allocare tempo specifico andate già rifattorizzare ovviamente se siete sicuri di quello che fate quindi questo è un po' il poi c'è quindi arriviamo arrivati fino a questo punto e avevamo iniziato dopo non avevamo iniziato perché c'era come dire un argomento un po' più corposo da avviare che era quello dell'implementazione ovvero in questo caso non si parla cioè noi abbiamo parlato fino adesso di di naming del nome delle cose e qui si va invece più nel dettaglio a fare che cosa a parlare invece di quello che è il codice il corpo delle nostre implementazioni quindi andiamo a vedere la parte di come dire di implementazione dei metodi delle routine ad esempio le funzioni qui col termine funzioni ovviamente si va a rappresentare tutto ciò che è una routine un metodo una funzione una procedura a seconda del linguaggio che usate una lambda quello che volete quindi vabbè lambda forse una cosa un po' speciale quindi che hanno per cui come dire in realtà questo dovrebbe essere ancora più drammatico come come accorgimento ovvero qui si fa riferimento al fatto che dovrebbero essere corte e il più corte possibili oggi ho visto un progetto su cui dovrei lavorare dove comunque c'era un metodo che faceva più o meno tutto mega switch che gestiva diciamo diverse casistiche e c'era praticamente una funzione che gestiva questa questa parte delegando poi a questo if enorme tutte le varie diramazioni e logiche della della logica dell'applicativo e questo nell'ambito del clean code dovrebbe essere invece il contrario ce ne dovremmo fare funzioni che sono il più corte e il più piccole possibile quindi evitare di concentrare logica in quelli che sono dei chilometri chilometri di codice come il primo esempio che avevamo visto ogni piccola funzione così è scritto nel libro e ovviamente non è come dire un parametro che potremmo che potremmo non so formalizzare o parametrizzare per uno che vuole dei riferimenti precisi ma ogni piccola funzione dovrebbe raccontare una breve storia cioè non so apro apro un file e metto un marcatore oppure crea un client rest faccio una chiamata se ogni processo ovviamente composto da più fasi ogni fase potremmo considerarla una parte della storia comunque una storia parte dovrebbe stare all'interno della propria funzione diciamo l'ideale sarebbe che le funzioni siano fattorizzate al punto che non sia possibile estrarre da queste funzioni una funzione analoga con lo stesso nome cioè se rendiamo ovviamente se abbiamo non so una funzione che fa il il maiuscolo non possiamo estrarre ancora qualcosa da questa perché non siamo arrivati ovviamente ai minimi termini ecco questo forse una visione che sicuramente applicata da all'estremo può portare dei vantaggi ed è molto difficile da ottenere perché a volte si tende insomma aprire devo fare qualcosa la funzione che apre il file legge dei dati cioè si tende a concentrare più cose all'interno di una stessa funzione ovviamente quindi fattorizzare a questo livello non è sempre così così semplice però più riusciamo a farlo è più come dire riusciamo a rendere la nostra funzione clean code cioè più pulita nel dare il nome alla funzione ovviamente di cui stiamo parlando rispettare le regole che abbiamo già visto nel capitolo precedente dei meaningful names ovvero dagli ovviamente un nome che sia significativo ogni tanto poi riporto queste come dire questi estratti dal libro function should do one thing they should do it well they should do it only cioè devono fare una cosa sola la devono fare bene devo fare devono fare solo quella cioè queste sono sono delle frasi che a volte nel passarci ho estrapolato perché in un colpo solo diciamo che danno l'idea un po del di di tutto quello che si sta dicendo cioè dei punti che abbiamo appena visto quindi questo è il concetto fondamentale quindi se ha una funzione che apre un file va a leggere un dato e in base alla presenza o meno manda una mail se implemento l'invio della mail nella stessa funzione sto già sbagliando quindi questo è un po è qualcosa che è una parentela col un po col single responsibility principle ovvero col fatto che ogni funzione dovrebbe avere uno scopo non deve fare più cose più cose in una volta quindi diciamo che per ogni funzione c'è un solo livello di astrazione qui c'è un esempio di funzione render page che prende un path delle variabili che sono il testo e i contenuti della pagina cosa fa recuperare dell'html si fa fare il rendering probabilmente di qualche modo dei contenuti della pagina tipo ad esempio una versione in pdf e poi la va a scrivere nel path che noi abbiamo indicato qui forse ci ci doveva essere un altro inserto qui come dire stiamo un po concentrando troppe cose in una in una funzione cioè la funzione cosa fa prende un percorso e fa rendering all'interno prende un contenuto che html lo trasforma in pdf poi lo scrive diciamo che sta facendo due cose convertire e salvare ovviamente non facciamo una funzione che contiene solo il write all text perché altrimenti violeremo quel principio che dicevamo prima ovvero stiamo facendo una funzione che prende un parametro e li passa a un'altra funzione cioè l'unica cosa che facciamo se noi facciamo una funzione che l'unica cosa che fa è chiamare un'altra funzione con gli stessi dati stiamo lavorando in quel caso inutilmente cioè stiamo non stiamo più fattorizzando ecco in questo caso invece quel render page avrebbe potuto prendere come dati non so i byte da scrivere ed eventualmente il render page poteva essere esternalizzato cioè si poteva dividere la parte di conversione da quella che è la parte di scrittura ovvero passare a questo render page magari la versione il testo già in html in modo che questa funzione prendesse l'html lo convertisse e lo andasse a salvare senza che questa funzione vada a recuperare anche l'html non so se mi sono spiegato cioè ci sono troppe a meno che questa operazione non questa non sia una funzione di concerto e queste operazioni non vengano fatte passando degli oggetti a cui viene delegato un po' questo compito però diciamo che questa non è ancora potremmo dire non è ancora ai minimi termini qui si parla anche del fatto che per astrazione si intende un solo livello vorrebbe anche dire attenzione a non mescolare delle cose di alto livello con basso livello ovvero se noi analizziamo questa procedura quello che viene fatto qui dentro che cos'è è prendere un percorso è una parte di business logic perché noi abbiamo un caricamento di qualcosa in html abbiamo una business logic che ci fa il rendering cioè c'è la stampa magari in pdf e poi lo andiamo a scrivere su disco noi abbiamo due logiche una di alto livello che è conversione html pdf e una di basso livello che è scrittura su disco cioè questi livelli non andrebbero mescolati quindi la soluzione sarebbe tirare fuori quell'html text get html tirare fuori usare quel render page da un'altra parte poi fare un write all text ecco se questo fosse il corpo di un main lo potremmo accettare di un metodo main ma il fatto che sia all'interno di una procedure vuol dire abbiamo una procedura che sta mettendo assieme diversi contesti diversi livelli di astrazione e diversi compiti cioè fa un po' tutto prende un path e poi fa un po' di cose nel momento in cui noi volessimo cambiare formato di output volessimo alterare questo comportamento dovremmo andarne a creare delle varianti dovremmo andarla a smontare dovremmo andare a iniziare ad aggiungere dei parametri non è non è propriamente un come dire una funzione che ci possa dire bella sta mixa troppo quindi in una parola poi nel libro trovate un sacco di esempi e quindi se avete occasione di dargli un'occhiata i case non si dovrebbe abusare dei costrutti case of men che meno di if then else dovrebbero apparire solo in classi che sono di basso livello cioè ad esempio all'interno di un programma magari io ho un if che in base a un enumerativo una costante che è 0 1 2 3 restituisce un valore non so una descrizione di quel valore 0 equivale a cliente 1 equivale a fornitore ecco magari ci sta che io abbia un case o qualcosa in una funzione che dato quel valore tira fuori questa descrizione non dovrei ripetere però non dovrei avere altre parti del codice dove io trovo che ad esempio nel case 0 1 2 3 da una descrizione in un altro punto c'è un case che in base al valore 0 1 2 3 fa qualcos'altro non dovrei replicare all'interno del codice che scrivo più case della stessa variabile dello stesso tipo per fare cose diverse in base al valore che ha in contesti diversi dovrei cercare di lavorare a quel punto un po' col polimorfismo cioè tradurre poi in programmazione orientata agli oggetti quelli che sono e con eventuali override metodi virtuali, strumenti, che linguaggi mettono a disposizione per fare sì che io gestisca in quel modo la variazione o la differenza di comportamento di quel valore, di quella serie di valori che sottopongo a case quindi magari invece che fare una costante 0 e fare dei metodi dove una costante che ha valori 0 1 2 3 fare dei metodi dove con un case tiro fuori descrizione con un altro case determino come viene calcolato lo stipendio o cose di questo tipo io a questo punto potrei fare la mia classe per così dire cliente fornitore con dei metodi di cui io eventualmente posso fare l'override e quando ho fatto l'override io faccio get index e mi da 0 1 2 3 get description io faccio l'override restituisco la descrizione che voglio vedere get salary per lo stipendio e restituisco una funzione anche perché con i linguaggi la programmazione funzionale si può fare una funzione che mi fa il calcolo dello stipendio in base dei parametri che vado a inserire in questo modo se voglio aggiungere una nuova casistica non ho tanti punti del codice con migliaia di case dove in ognuno devo andare a aggiungere la mia alternativa e quindi quello che di fatto sto facendo è andare a cambiare codice già scritto ma è sufficiente creare una nuova classe quindi scrivere un nuovo codice che si affianca a quello esistente dove è reddito da un'altra classe e faccio l'implementazione di tutte quelle logiche che andrei a spargere in giro dentro quella media di case di cui parlavo prima cioè devo sfruttare la programmazione di oggetti devo fare in modo che a casistica nuova corrisponda a nuovo codice e quello esistente anche se può apparire semplice perché un case è abbastanza facile magari da modificare non dovrei andare a ritoccare codice che ho già scritto i case magari sono facili ma magari mettiamo che me ne dimentico una e il mio programma non funziona perché ho dimenticato in un case di aggiungere la nuova alternativa che sono andato a creare e a quel punto quando arrivi in quel livello del programma il case manca e quindi la funzionalità non c'è mentre se io magari ho fatto una classe base che rappresenta la casistica e ho messo un metodo che voglio che venga implementato e lo metto astratto o che deve essere comunque ridefinito per forza cioè devo fare per forza l'override a quel punto la mia interfaccia la mia classe astratta fa da guida l'implementazione e se non aggiungo l'implementazione mancante come potrei dimenticarmi in uno switch mi va in errore cioè non mi compila neanche in certi casi come C Sharp o Java o in Delphi c'è un warning ma possiamo trasformare in errore cioè io se mi scordo di fare di gestire quella casistica non riesco proprio a compilare il programma quindi però devo cercare di fattorizzare di sfruttare in questo caso la programmazione oggetti non dico tutte le volte che vedo un if però diciamo che se io ho un tipo numerativo e ho solo un if in un punto dell'unico esistente in tutto il codice dove faccio un if o un switch o un case e faccio qualcosa in base al valore non ho nel resto del codice altre costruzioni analoghi posso dire di essere a posto perché è questo è il concetto di non devono essere ripetuti più volte nel codice questo è il il punto fondamentale e in ogni caso è preferibile sostituirli se è possibile senza fare ovviamente over engineering cioè senza poi esagerare con con un'implementazione basata sul polimorfismo e poi qui ho scritto altro perché ad esempio io molto spesso se ho un tipo numerativo devo mettere delle descrizioni ho una classe che mi dà questa informazione non metto lo switch ma nella classe come metodo statico metto un dizionario che associa ad ogni ad ogni valore la sua descrizione e poi c'è un metodo che dice ok dammi il valore io guardo se c'è un sito altrimenti ti do un errore un'eccezione se c'è un sito ti do la descrizione quindi diciamo che è come definire una tabella dove all'arrivo di una nuova casista che io vado a censire un valore e magari posso fare della logica di fallback cioè l'importante è che a qualcosa di nuovo corrisponda aggiunta di qualcosa e non modifica di ciò che io ho già scritto quindi questo è un po' la cosa che questo è un argomento anche che ricorre nei principi solid non solo nel clean code diciamo che applicare i principi solid è uno dei modi che abbiamo per poter dire per poter scrivere anche clean code e che ci dà una mano qui c'è un esempio di cui si parlava qui c'è proprio tutta l'esemplificazione ad esempio calcolo la paga mi passi l'employee cioè il tuo impiegato ti dà una valuta ecco che c'è il case questo è il case di Delphi che equivale poi allo switch che dice andiamo a vedere il tipo di impiegato se all'ora se pagato a stipendio se ci sono i vari tipi di impiegato e in base a quel tipo viene il result della nostra funzione viene chiamato un metodo che fa un calcolo e se invece quel tipo non è supportato c'è una bella eccezione che dice mi hai passato un tipo di impiegato che io non sono in grado di gestire di calcolare la paga ecco qui c'è il simbolo del divieto perché sta a indicare che questa è una cioè è codice semplice leggibile è manutenibile se vogliamo perché lo leggiamo abbastanza facilmente quindi non abbiamo come dire difficoltà anche a modificarlo sembra semplice però un domani che abbiamo una casistica nuova noi dobbiamo venire qui e aggiungere un nuovo branch un nuovo ramo a questo case ma magari la stessa cosa dobbiamo farla in tante altre parti perché perché qui si parla di paga ma magari in un altro caso si parla di stampare dei report e quindi se in base al tipo di impiegato dobbiamo fare cose in modo diverso abbiamo tanti case tanti switch da da andare a ritoccare ecco l'alternativa qual è qui ad esempio in DF è fare un un'interfaccia che si chiama pay calculator cioè il calcolatore della paga che ha una funzione calculate pay che è uguale a quella che abbiamo visto che prende un employee e ti dà un currency dopodiché sotto abbiamo delle routine cioè abbiamo fatto delle funzioni una è calcolo ovviamente la paga dell'impiegato quindi è la funzione che stavamo guardando prima però sarà ovviamente implementata in modo diverso perché ovviamente sarà implementata nel modo corretto cioè abbiamo un sistema dove noi chiamiamo una funzione che ci calcola lo stipendio però in modo diverso rispetto a prima come fa? c'è un'interfaccia che dice che le classi che fanno il calcolo dello stipendio hanno un metodo calculate pay che è dato un employee ci dà il valore abbiamo poi delle procedure register calculator che cosa servono servono a dire guarda caro sistema cioè questo è un sistema che stiamo codificando noi con register calculator cosa andiamo a fare andiamo a dire guarda prendo un tipo di impiegato un employee kind e ti passo un oggetto il calculator che è in grado di calcolare lo stipendio per quel tipo di impiegato e dopodiché abbiamo un register che eventualmente ci consente di rimuoverlo cioè di deregistrarlo per così dire perché abbiamo gestito cioè noi stiamo facendo un sistema aperto in cui abbiamo una funzione che fa questo calcolo e abbiamo anche una sorta di piccola API che ci consente di introdurre delle implementazioni che fanno dei calcoli in base al tipo diverso di impiegato quindi nel momento in cui noi conosciamo i tipi di impiegato che abbiamo visto prima andiamo a implementare i vari calcolatori ad esempio qui c'è un'implementazione della register cioè ci fa vedere che ad esempio all'interno di una unit che implementa l'API che stavamo vedendo prima c'è un bel dizionario di calcolatori che associa a un tipo di impiegato ecco il calculator che vediamo lì un pay calculator ovvero magari ve lo ingrandisco un po' pay calculator cioè un oggetto in grado di calcolare lo stipendio per quel tipo di impiegato quindi abbiamo la register che di fatto va ad aggiungere il dizionario la register va a controllare se c'è già e lo rimuove poi in inizialization abbiamo la creazione del dizionario perché sopra l'abbiamo solo dichiarato ma va ovviamente creato e in finalization ovvero quando questo modulo viene scaricato cioè stiamo chiudendo il programma o non abbiamo più bisogno lo andiamo a distruggere in modo che quindi questo è un sistema aperto di associazione di tipi di impiegato e qualcosa che è in grado di calcolarti lo stipendio per quel tipo di impiegato questo è un po' il principio e poi abbiamo ovviamente i calcolatori ad esempio abbiamo l'employee commissioner pay calculator il hourly pay calculator il salario pay calculator cioè gli elementi dello switch che abbiamo visto prima del case diventano in realtà varie classi che dicono io ti calcolo lo stipendio per questo tipo di impiegato per questo e per quest'altro tutti implementano ovviamente sono degli oggetti molto semplici interfaced object è una classe delfi che praticamente è un t object è un object è la classe diciamo principale con l'implementazione di alcuni metodi infrastrutturali che delfi utilizza per la gestione della memoria automatica quel pay calculator è invece l'interfaccia che abbiamo fatto noi e quella è la nostra forzatura cioè se io voglio creare una nuova classe di questo tipo implemento quel pay calculator non riesco a compilare a meno che non vada ad inserire questa function calculate pay quindi mi forzo anche con l'interfaccia mi faccio anche da guida non uso lo switch ma uso delle interfacce per dire se tu vuoi estendere il sistema con una nuova casistica hai quell'interfaccia che ti guida nel dichiarare il metodo che dopo vai andrà a implementare in un certo modo quindi quando noi abbiamo i nostri tipi di impiegati facciamo questo register calculator ovvero cosa facciamo diciamo che è il commissioned lo stipendio viene calcolato col commissioned pay calculator quella punto create va a creare l'oggetto lo mettiamo nell'edizionario quindi diciamo al nostro sistema che quel tipo di impiegato si gestisce il calcolo dello stipendio va fatto con quell'oggetto perché noi stiamo facendo un register calculator ma potremmo avere un register di reporter per fare dei report un register possiamo ovviamente creare un sistema in cui registriamo tutto quello che vogliamo dei driver dei plugin quindi lì ci sono i tre tipi che conosciamo con la creazione dell'oggetto che fa effettivamente il calcolo dello stipendio in base al tipo e sotto abbiamo la nuova versione del calculate pay quindi se torno all'inizio per dire abbiamo il caso sbagliato avevamo il mega switch il case con il kind e le varie funzioni che poi tra l'altro questi calculate scritti così probabilmente sono metodi della stessa classe quindi abbiamo una classe che contiene l'implementazione di tutti i tipi di impiegato quindi abbiamo iniziamo ad avere un file ovviamente pieno di codice mentre tutte le altre classi potrebbero stare in un loro file a parte senza nessun problema ecco questa funzione è stata trasformata e come vediamo qui nel nel 4 con questo calculate pay che vuol dire passiamo all'employee lui cosa fa dice vado a vedere il tipo di impiegato vado nel mio dizionario di calcolatori registrati e try get value vuol dire prova a tirar fuori l'oggetto che consente di calcolare la paga di questo impiegato se non ci riesco non ti dico tipo di impiegato non supportato se ti scrivo calculator not found or not registered cioè non mi hai passato non hai informato il sistema di come si calcola lo stipendio per questo impiegato quindi posso anche essere molto specifico nella descrizione questo anche prima però diciamo che qui a livello di sistema sto sto configurando un sistema molto più aperto se l'esempio riuscite ovviamente a capirlo nel caso sia un po' intricato e quindi se trovo un calcolatore se non lo trovo do un errore perché è come dire non so come calcolare lo stipendio se lo trovo vado su quell'oggetto e chiamo il metodo calculate pay cioè quell'oggetto saprà applicare la logica giusta per calcolare gli stipendi dovremmo aver finito ok i nomi non c'è un esempio di come dire classe che fa il calcolo ma ovviamente nella classe non c'è un switch nella classe ci sarà solo ed esclusivamente il codice di calcolo del salario di un employee specifico quindi diventa molto semplice quindi qui ho creato molte cose in più e mi rendo conto che rispetto a fare un semplice case magari risulta più più complicato però a tutti gli effetti noi potremmo dire che abbiamo creato tante cose ma in ognuna c'è un una cosa molto specifica ovvero ho un sistema che calcola gli stipendi ho la possibilità di creare un calcolatore per un tipo di registrarlo di toglierlo di chiedere di pagare un come dire di calcolare uno stipendio ho le classi che calcono i vari stipendi per i vari tipi c'è un sistema molto aperto domani mi arriva un nuovo tipo di employee io cosa andrò a fare andrò a creare non so il lo stagista quindi stage employee kind stage andrò a fare t employee stage pay calculator cioè creo la sua classe apposita l'andrò a registrare in modo che il sistema conosca quel tipo di calcolo e chiamerò sempre la stessa funzione per sapere il suo stipendio perché la funzione ci si interfaccia con quel dizionario di calcolatore mi tira fuori l'oggetto e va a chiamare il metodo che mi dà il valore corrispondente quindi nuovo caso non è un nuovo pezzettino che vado ad aggiungere al case lo switch che ho già scritto cioè modificare il codice esistente ma creo un nuovo file dove metto una nuova classe e in fondo ci aggiungo la chiamata alla register per dire questa è l'implementazione e qui sotto c'è il codicino per far sì che quello che ho appena scritto vada a rendersi noto al sistema in modo che il mio sistema si integri di una nuova casistica senza però che il resto venga toccato perché questo codice non ho senz'altro bisogno di toccarlo lui se trova il calcolatore il metodo lo chiama quindi non ha bisogno di fare nessun tipo di lui lavora con qualsiasi anche qui potrei vedere se il calculator c'è ma non so è null potrei fare tutta una serie di mie valutazioni cioè posso aggiungere tutto quel codice che prescinde dal tipo di ho astratto praticamente ho creato un'astrazione su quello che è il case switch che vedevamo all'inizio e questo è il modo di scrivere clean code perché abbiamo tanti piccole funzioni che raccontano una storia cioè qui abbiamo la calculate pay la sua storia qual è? ho un impiegato io so che ho un sistema di calcolatori trovo quello giusto e gli faccio calcolare il salario ho tanti calcolatori di salario ognuno con un singolo metodo calculate pay che fanno una sola cosa cioè guardano quel tipo di impiegato e tirano fuori il suo il suo salario in base all'algoritmo che decido di utilizzare quindi ho tante classi tante funzioni che fanno una cosa singola la fanno bene fanno solo quella e non fanno nient'altro quindi molto più complesso ma appare complesso se non si è abituati magari a ragionare in questo modo ma se ci si abitua si riesce velocemente a costruire un sistema altrettanto manutenibile comunque nello stesso quantitativo di tempo ma con una flessibilità molto molto più come dire più ampia rispetto a quella che vedevamo prima con uno switch o con vari switch sparsi avanti e indietro per il nostro il nostro progetto nomi delle funzioni vabbè qui forse non vale la pena di starci cioè le regole le abbiamo già viste non temere di dare la funzione un nome lungo è una regola che c'è scritta nel libro però insomma io anche lì starei sempre attento a non esagerare secondo me vanno presi anche un po' con le pinze certe regole aiutarsi con dei verbi dei nomi composti sfruttando il pascal case in questo caso quando parliamo di Delfi abbiamo il pascal case quindi l'iniziale maiuscola e ci sono tutte le iniziali delle parole in maiuscolo in javascript iniziale minuscola ma anche lì si utilizza il camel case comunque comporre è buona prassi comunque non lesinare e non fare delle abbreviazioni stupide inefficienti o incomprensibili per scrivere meno quando abbiamo un IDE o comunque un tube di sviluppo che ci completa anche in automatico il codice non ne vale proprio la pena meglio che sia leggibili e mantenere come già si diceva la consistenza fra i termini you know you're working on clean code qui è una frase stata dal libro when each routine turns out to be pretty much what you expect cioè tu gli dai un nome ti aspetti che faccia una cosa quando fa quella cosa lì non fa nulla di più nulla di meno puoi dire ok l'ho implementata bene l'ho battezzata bene mi rendo conto che non sono criteri misurabili fino in fondo e questo è vero però come dire sono sempre però suggerimenti che andrebbero presi per fare esercizi e cercare di scrivere il più possibile il codice in un certo modo andando avanti ok qui si parla dei parametri delle funzioni il libro è abbastanza abbastanza come dire non voglio usare un termine che potrebbe risultare diciamo un po' integralista non saprei come dirlo cioè dice il numero ideale di parametri di una funzione è zero cioè se potesse essere sempre zero noi saremmo dei pascha però è anche vero che a quel punto svanisce anche il vantaggio di fare per così dire una funzione quindi un parametro dice è tollerato due sono tanti tre sono da evitare quattro devono proprio essere giustificati con un doppio timbro e la firma col sangue e quindi proprio andrebbero proprio totalmente evitati è un po' rigido su questa ma io sono d'accordo cioè che non vuol dire che noi non possiamo passare due tre quattro anche dieci dati si parla di parametro questo perché questo è effettivamente vero ognuno di questi parametri aggiunge una complessità un effort mentale da fare nella lettura soprattutto quando parliamo di leggere il codice che contiene le chiamate una funzione senza sapere senza avere sotto gli occhi la firma di quella funzione e dovendolo andare a vedere anche questo è un passaggio in più che dovendo fare come dire lo dobbiamo fare ma richiede il suo tempo quindi se si potesse evitare sarebbe ovviamente meglio quindi ogni parametro aggiunge questa complessità ed è formentale quindi meno ce ne sono meglio è random difficoltosi gli unit test questo è vero perché ogni parametro supponiamo di avere un parametro booleano può assumere i valori true false io quando ho creato due test case cioè due metodi che testano che funzioni il true che funzioni il false sono a posto ma se fosse anche integer ok faccio un metodo che passa a uno uno che passa a 99 ma più parametri aggiungo e più devo provare diverse combinazioni di un parametro dei suoi valori con i valori che passo agli altri quindi a questo punto gli unit test iniziano a moltiplicarsi perché è anche la complessità di quel metodo di quella funzione che inizia a essere eccessivamente complessa e quindi quello che di fatto succede è che io devo testare più la funzione può potenzialmente fare più rami più if ci sono più for ci sono più la come si dice la ciclomatic complexity che è un parametro che viene usato per misurare queste cose aumenta e quindi più difficoltoso diventa testarla sia con degli unit test in modo automatico ma anche come dire in 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 senso reale cioè lanciando il programma e provando tutte le varie possibili varianti quindi prediligere io qui per prediligere avrei usato sarei stato molto più netto valore di ritorno rispetto a parametri passati per valore questo sta a indicare di non passare ad esempio in C sharp si chiamano dei buyer F cioè passare parametri per valore si sta a indicare che anche la casistica in cui noi passiamo oggetti e la funzione ci va a variare qualcosa sull'oggetto che noi passiamo cioè meglio a quel punto fare un clone e restituire l'oggetto aggiornato e questo rientra un po' anche nei paradigmi della programmazione funzionale dove di fatto si cerca di di volta in volta creare un programma dove una funzione ne richiama un'altra c'è un un input che entra che dà luogo a un output che diventa l'input di qualcos'altro e a un certo punto abbiamo una catena che non va a creare dei cosiddetti side effects cioè delle funzioni che quando le richiamiamo e passiamo un valore quello non viene alterato e ci dà il risultato e se passiamo lo stesso ci sostituisce sempre lo stesso risultato quindi oltre a non variare i parametri che passiamo come oggetti e non cambiare lo stato sono anche funzioni pure da questo punto di vista sono tutta una serie di tecniche che consentono di scrivere del codice molto più come dire adatto a tutti quei paradigmi di programmazione funzionale cioè io semplicemente ho una catena di chiamate se voglio capire come si comporta in un altro modo vario l'input e so che l'output essendo sempre coerente varia per tutta la catena di chiamate del codice e quindi posso anche simulare addirittura con alcuni linguaggi quello che succede variando il parametro di input e vedendo cosa ottengo in output quindi qui diciamo sta a indicare che io se devo passare qualcosa non passo intanto mai variabili per riferimento solo per valore e se passo oggetti e voglio alterare qualcosa è meglio restituire la versione alterata dell'oggetto e lasciare l'originale com'è questo è un po' il quando ho parametri multipli voglio lavorare su non so ho un metodo che fa una conversione accetta tantissime opzioni non è che io non le posso passare perché diventerebbero troppi parametri io potrei avere un parametro unico che all'interno contiene che è un record o una classe quindi una struttura o una classe con dentro le informazioni quindi parametro è uno però il parametro in questo caso che passo è un contenitore di n dati che sono parametri di per sé però se vado a vedere la dichiarazione di questa funzione che viene chiamata troverò che nel contesto della chiamata o poco prima io valorizzo tanti campi con un nome specifico e quindi capisco quali sono i dati che vado a valorizzare e passo un unico parametro alla funzione quindi un domani che ho bisogno di passare un dato in più non vado a cambiare la firma della funzione perché quella rimane uguale ma prendo magari quell'oggetto e gli aggiungo una proprietà oppure prendo quella struttura e gli aggiungo un campo quindi questo è un po' il c'è una menzione anche sulla su quello che è l'ordine dei parametri ad esempio qui c'è un caso abbastanza famoso scusate mi bevo un goccio d'acqua perché sto piano piano prosciugando altissima purissima vabbè qui abbiamo un esempio classico di ambiguità tra l'altro che è un esempio che riguarda un framework famoso per fare del testing quindi neanche codice scritto da principianti o progetti custom ma è proprio una libreria che accetta due parametri fa la cert quindi questo viene usato in unit test per dire mi passi il valore che hai ottenuto mi passi quello che ti aspetti e ti do il buon fine del test se i due valori coincidono e quindi però così come dichiarata vediamo la dichiarazione ma noi normalmente non vediamo la dichiarazione cioè andiamo a utilizzare nel codice qual è il giusto utilizzo annetto che poi comunque sembrano intercambiabili ma in realtà non lo sono perché il messaggio che viene dato è abbastanza indicativo cioè abbastanza esteso e quindi va a indicare ad esempio quando il test fallisce va a scrivere mi aspettavo 100 guardando questo esempio e mi hai passato quindi anche se è una uguaglianza tra due valori quindi potrebbero essere anche scambiati questa procedura assert equals va come dire a parte che c'è un problema nel nome che sotto c'è scritto assert ma è sempre la stessa funzione i parametri vanno messi al giusto posto ma quando chiamiamo assert e vediamo i due valori ci ricordiamo sempre se ci va prima quello atteso e poi quello ottenuto o viceversa quindi qui sta a indicare che non bisogna bisogna il più possibile evitare ambiguità nell'ordine di parametri che tra l'altro hanno lo stesso tipo quindi sono perfettamente intercambiabili e uno in questo modo si deve ogni volta ricordare è vero che l'idea ci aiuta perché appena apro la parentesi mi dice il primo parametro cioè questo è un esempio preso apposta perché stiamo proprio lavorando di fino cioè qui è una cosa che potremmo tranquillamente trascurare ma molto spesso siccome viene trascurata in ambiti dove è possibile viene trascurata sempre e in certi casi ci può portare a scrivere comunque del codice che potrebbe essere scritto meglio o in maniera un pochino più come dire espressiva più esplicita e farci riconoscere subito qual è il valore cioè quali sono effettivamente i parametri i valori che gli andiamo a passare ovviamente questo diventa è una cosa che va all'ennesima potenza quando parliamo dei parametri che sono flag e booleani quindi l'esempio che vedevamo all'inizio quel get company data che passava 1, true send mail c'erano un paio di parametri che erano ovviamente l'indirizzo l'oggetto se capisce poi c'era un 1, 0, 1 o meno 1 true e non capisci che cos'è intanto passare un booleano a una funzione il libro spiega anche ma poi spiega anche il perché è da considerare sempre una cosa da evitare questo perché perché se noi abbiamo una funzione che accetta un booleano vuol dire che quel booleano a un certo punto verrà testato e nel caso dell'if farà una cosa nel caso dell'elf se ne farà un'altra quindi perché va evitato perché noi stiamo già dichiarando cioè già nella dichiarazione della funzione noi stiamo già dicendo che la nostra funzione fa già due cose perché se la variabile se passiamo un booleano ci faremo qualche cosa quindi quel true e quel false stanno a indicare due comportamenti probabilmente spesso anche antitetici cioè che sono l'uno il contrario dell'altro e li stiamo inglobando in una funzione che a questo punto fa già due cose intanto la complica subito perché la firma acquisisce un parametro evitabile spesso noi lo leggiamo e dobbiamo come qui c'è lo screenshot dobbiamo andare sopra e fermarci e invocare uno shortcut per farci dire che quel true è il parametro force update che ci fa capire che questo render farà un rendering di qualcosa e quel force update a true vuol dire che se anche disegniamo la stessa cosa la dobbiamo comunque ridisegnare questo nell'esempio che si intendeva nelle intenzioni dell'esempio questo era il caso in esame quindi non è immediatamente leggibile dobbiamo andarci sopra per vedere quel parametro che cosa vuol dire anche perché renderci scritto true quel true potrebbe servire a qualsiasi cosa e di fatto è già un'ammissione di aver fatto una funzione che non è come dire a singola responsabilità perché sta già facendo dichiaratamente due cose quindi al post di quello il suggerimento è quello di dire facciamo un metodo che si chiama render è un metodo che si chiama render forcing update quindi abbiamo due versioni invece di una unica con l'if abbiamo due metodi diversi di cui uno è un render semplice è un altro che render forcing update sta proprio a come dire sottolineare a stressare il fatto che la differenza tra il primo e il secondo sta nel fatto che il secondo fa quella cosa come dire in maniera forzata cioè andiamo proprio a evidenziare quelle che sono le differenze tra questi due metodi nel farlo usando un nome significativo e come si dice intention revealing per la procedura render forcing update esplicitiamo esattamente il suo compito e quello che fa e automaticamente eliminiamo un parametro che avremmo dovuto sempre esaminare per capire qual è il suo obiettivo quindi questo è un po' estremo mi rendo conto ma è un esempio molto calzante che ricorre spesso di come si può come dire semplificare il codice andando però a giocare sul nome creando quindi una versione molto più immediata rispetto a quello che ci appariva più immediato prima cioè mettere semplicemente un parametro tralasciando però una serie di conseguenze che sono quelle che abbiamo visto e spesso magari la prima soluzione è quella a cui pensiamo subito perché perché ne vediamo continuamente delle implementazioni non solo nel come dire in non solo nelle cose che scriviamo noi ma anche in librerie blasonate cioè commento in C sharp puoi specificare il nome del parametro sì quello è una cosa che hanno aggiunto anche se poi quando lo metti in Visual Studio ti dice ma è superfluo perché non lo togliamo e lo metti in grigio cioè indicarlo praticamente quello è diventato un po' un espediente era un espediente per i parametri opzionali perché quelli essendo opzionali invece di essere costretto a metterli con un ordine potevi metterli in ordine sparso e quindi tolti quelli obbligatori quelli opzionali devi per forza indicare il nome per capire a dove va messo il valore e quindi la stessa scrittura loro dopo l'hanno supportata anche per quelli obbligatori però se ad esempio lavori con Resharper Resharper quelli come dire espliciti ti suggerisce eventualmente se di toglierli la cosa carina è che Resharper o comunque gli ID JetBrains molto spesso a meno che noi non passiamo come parametro una variabile che il nome assomiglia al nome del parametro se passiamo direttamente il valore lui ci mette davanti il nome del parametro e ci fa capire cioè l'IDE ci viene un po' incontro e questo è ci viene incontro sempre di più quindi alcuni di questi problemi sono effettivamente un po' mitigati dal fatto che l'IDE ci mette l'IDE ci mette lo zampello ci mette lo zampino e ci aiuta ci fa togliere il superfluo e quello che non è automaticamente visibile ce lo fa come dire ce lo inserisce in modo che riusciamo sempre capire no WS non ha mai ragione non sembra non ha mai ragione perché a me è capitato una volta che mi ha detto questa cosa è superflua l'ho tolta e mi ha detto però se specifici è meglio allora cioè la devo metterla la devo togliere perché praticamente avevo un warning entrambi i casi adesso non mi ricordo cosa avevo fatto però a un certo punto ho disabilitato l'opzione però sì ecco ignorando un po' rilassandogli un po' con le regole un po' forzate però diciamo che andare però a scrivere ogni volta il nome del parametro diventa ecco mi piace più quando al post di n parametri passo un oggetto e faccio la new parlando di c sharp la new mettendo la classe poi dopo tra graffe le proprietà con già i valori cioè quello è leggibile cioè hai una funzione chiamata dentro ci finisce un parametro e ci metti tutte le tue dichiarazioni con proprietà nome uguale valore quindi sono anche tutte battezzate si capisce benissimo che qual è l'intento quei valori dove vanno poi magari puoi chiamare anche dei metodi quindi ci sono delle ci sono delle soluzioni che come dire vanno sempre bene ti eviti nel caso l'idee non aggiunga del suo ti eviti di avere del codice che non riesci a leggerlo che può essere ambiguo però la precisazione giusta ci sta ci sta comunque una funzione con effetti collaterali magari nascosti dunque qui adesso non mi ricordo di cosa si parla perché al suo tempo mi è sfuggito un po' l'argomento questo direi che si riferisce magari c'è anche un esempio di codice per capire ok magari vado la funzione con effetti collaterali sì cioè qui si riferisce al fatto che tu chiami una funzione che magari ha un nome e in realtà sotto sotto va a fare anche qualcos'altro e tu non lo sai o non te lo aspetti e a quel punto ti trovi che magari lo stato del tuo sistema ha cambiato bisogna quindi questo si ricollega un po' al discorso che facciamo prima di non cambiare le proprietà dell'oggetto che noi passiamo come parametro e a livello più alto in questo caso separare le letture dalle scritture come indicato qui ad esempio il command query responsibility segregation tutte queste cose che hanno questi questi acronimi impronunciabili per dei concetti che poi alla fine sono abbastanza cioè se devo intervenire sul sistema ho un metodo che cambia se vado a leggere qualcosa non ho una lettura che mi restituisce dei dati nel frattempo aumenta un contatore cioè la lettura deve solo leggere non mi deve far trovare andare a alterare lo stato del sistema che vado a esaminare quindi è un po' è un po' come mettere nella programmazione andargli a togliere il principio di indeterminazione cioè noi se tocchiamo il sistema per sapere come è messo non dovremmo influenzarlo in natura non avviene per il principio ma nel software dovrebbe dovrebbe essere così cioè qui c'è un esempio c'è bruttarello ma in realtà anche questo non è proprio inventato ma ci sono noviste di casistiche c'è questo user validator che fa un check password check password mi fa pensare che io passo un nome utente una password e lui mi dice se sono corretti dandomi true e dandomi o false in caso di nel caso non siano corrette e poi c'è un po' un'implementazione che dice trovo il getway trovo l'utente va a vedere se l'utente è inizializzato prende la password la decrypta fa un confronto a questo punto se quello per la criptografia mi dice che è valida vado ad inizializzare la sessione dell'utente e questo è una cosa che non mi aspetterei c'è questo check password o lo chiamo check password o lo chiamo start session e gli do username e password cioè in questo modo io intendo non creare una funzione ma un comando che prende username e password e ovviamente prima li verifica e in caso affermativo avvia una sessione in caso negativo magari mi dà un'eccezione piuttosto che un booleano di ritorno ma una funzione fatta così che dice ti controllo la password non mi aspetto che se io gli passo delle credenziali sono validi mi trovo anche già la sessione inizializzata cioè questo è un è più raro se vogliamo non è che succeda sempre ma questo è un esempio magari andate a vedere un po' di codice scritto non da altri ma da noi stessi nel qualche mese fa e a me è capitato di trovarne qualcuno che magari faceva quella cosa lì e quindi in virtù di questo si salvava un dato per andarlo a utilizzare dopo nel contesto in modo da evitare di ripetere un'operazione cioè a volte c'è anche il fin di bene in mezzo su certe cose che però rischiano di ovviamente queste due operazioni qui essendo contestuali si fa fatica a slegarle si fa fatica chi chiama il metodo può essere fuorviante perché magari in quel momento vuole solo una validazione ma per sapere ad esempio se l'utente c'è ma magari non vuole inizializzare una sessione che può essere anche un'operazione che ha un suo consumo di risorse di cpu che magari fa dei log che ne so cioè quindi ci possono essere vari motivi e quindi questo è un po' il e questo è un po' il concetto quindi la gestione degli errori a tal proposito anche questo ecco come dicevo prima la gestione degli errori spesso viene fatta mettendo nel blocchettino faccio il catch o in questo caso c'è la parola chiave except e metto un blocco e dentro ci scrivo una marea di codice cioè sia come si diceva prima per il principio di singola responsabilità anche delle funzioni innanzitutto se devo comunicare il fatto che non sono riuscito a fare qualcosa l'uso delle eccezioni è preferibile al posto di un error code perché magari l'error code lo posso mettere nell'eccezione se voglio specializzare cioè usarla stessa per una famiglia di errori e come dire discriminare senza creare mille classi però le eccezioni essendo anche loro strutturabili con la programmazione oggetti in gerarchia di classi sono molto potenti e sono molto come dire flessibili dal punto di vista quindi questo login piuttosto che darlo un turn false dovrebbe essere invece che una function in defy deve essere una procedure che non restituisce un boolean ma prova a fare un login e in caso di errore come dire intercettiamo l'eccezione e poi lo andiamo a loggare però il log che può anche essere una logica essendo una logica che ha un compito diverso rispetto a quella di fare il login dell'utente non dovrebbe trovarsi implementante nella stessa funzione ma dovremmo come in questo caso implementarla a parte con un metodo ad esempio qui è stato fatto un metodo log web exception con l'eccezione che si interfaccia ovviamente un logger perché qui se non mettiamo due comportamenti nella stessa funzione neanche la stessa classe li deve avere quindi il log lo facciamo però ovviamente lo facciamo tramite un'interfaccia di logging che prende il nostro messaggio lo va a scrivere dove gli pare magari un'interfaccia che può essere inizializzata con una classe che scrive su file o che manda una mail o che scrive su db o che fa il log nella maniera che ritiene più opportuna però è importante adesso qui è un'istruzione unica forse questa flogger log poteva essere messa direttamente nella gestione dell'eccezione però se abbiamo un pochino di logica in più è bene isolarla in un metodo logweb exception ci racconta una storia la storia prendo un'eccezione e la vado a passare al logger per andarla a scrivere da qualche parte la login racconto una storia provo e provo a fare il login magari chiamando una classe che fa da validazione e se non ci riesco mi viene fuori un'eccezione io la intercetto in modo da andarla a loggare e poi o la risollevo oppure la posso considerare già gestita magari c'è una parte di logica che va a analizzare dei campi e va a verificare se il login è andato a buon fine cioè l'eccezione potrebbe anche fuori uscire qui l'abbiamo loggata però potremmo metterci un raise o un throw come C sharp e farla fluire fuori in modo da in modo da dire ho fatto un'operazione l'ho loggata però non ti gestisco completamente l'errore ho fatto solo il login ma te la ripasso perché così tu puoi completare la sua gestione passando quell'eccezione a un metodo che faccia magari qualcosa di più o che visualizzi qualcosa sulla pagina o sull'applicazione eccetera quindi le eccezioni sono da preferire rispetto a tutte a creare invece che dei metodi void o delle procedure creare delle funzioni che ti dicono sempre un boolean ne ho viste alcune oggi che facevano una cosa ti dicono sempre true o false true o false quando ogni cosa ti deve dare un risponso vuol dire che se tu da quella funzione devi estrarre un valore o lo tieni con un parametro out o var o ref come a seconda del linguaggio perché non puoi restituirlo come valore di ritorno in quanto se hai già il boolean che ti dici è nato a buon fine quindi le funzioni ovviamente si complicano in termini di parametri e insomma non è il massimo invece in questo modo le eccezioni sono potenti perché in quel momento succede qualcosa inaspettato teniamo sull'eccezione il metodo si ferma e passiamo direttamente alla prima al primo blocco più vicino possibile che è in grado di prenderla e gestirla o completamente o parzialmente rimandandola poi fuori in modo da gestire in maniera strutturata quindi anche la logica di gestione delle eccezioni va isolata in una funzione quindi questo perché ogni funzione ha un solo compito e gestire gli errori è uno di questi quindi nel momento in cui faccio il catch se ho un po' di righe che sono in implementazione di gestire l'eccezione le devo andare a mettere preferibilmente in una procedura a parte così mi creo tanti blocchetti e mi tengo distinti tutte le parti intanto la funzione che dopo produce l'eccezione e la gestisce se chiama questa funzione non ha molto codice rimane le varie parti rimangono come dire più isolate ciao ciao Mauro grazie per il passaggio partecipazione e ci vediamo alla prossima buona buonanotte direi vista non so neanche che ore sono sono già le 10 e mezza la funzione quindi rimane più leggibile e la logica di gestione dell'errore può essere anche riutilizzata perché magari oltre al login noi facciamo altre operazioni in questo in questa classe in questo oggetto e quando succede qualcosa andiamo sempre a chiamare quel log web exception quindi qui è sempre il concetto di don't repeat di non ripetere continuamente le stesse righe di codice quindi di fattorizzare un po' anche in maniera un po' più banali ovviamente le eccezioni andrebbero create nel modo corretto ecco se vogliamo dare degli indizi sull'errore che abbiamo rilevato evitando di creare tante classi piuttosto che l'errore code magari usiamo degli numerativi perché abbiamo dei linguaggi di altro livello a disposizione come edifici sharp java eccetera sfruttiamolo cioè non stiamo a dire l'errore meno 2 corrisponde oppure a fare questi tipi di creare delle costanti esagerare cioè abbiamo un numerativo siamo riusciti a collegarci il server non risponde oppure il server risponde ma ci ha detto picche cioè facciamo magari una server exception e poi dopo abbiamo un campo che ci dice la motivazione se usiamo nel numerativo abbiamo già il concetto di costante un numerico che possiamo consumare per farci non uno switch a un case perché dopo c'è il problema di prima ma riusciamo a gestirlo in una maniera ovviamente nel creare queste eccezioni dobbiamo sempre crearle mettendoci dentro delle informazioni le informazioni che mettiamo dentro dobbiamo sempre tenere presente che sono informazioni che non servono cioè noi non dobbiamo se facciamo una libreria e abbiamo una casistica a runtime che non ci piace che ci blocca nel sollevare l'eccezione dobbiamo sempre pensare che non stiamo gestendo l'errore ma noi stiamo sollevando l'eccezione perché stiamo delegando a qualcun altro questo compito quindi dobbiamo sempre programmare e andare a creare queste eccezioni sfruttando le gerarchie di classi mettendoci delle proprietà mettendoci tutte le informazioni possibili per aiutare poi chi farà il catch del nostro errore in modo che possa recuperare un oggetto con dentro quante più eventualmente informazioni utili possibili per capire che cosa è successo come eventualmente si può rimediare l'errore eccetera eccetera quindi adesso annetto di evitare ovviamente come sempre di esagerare ed eccedere nelle informazioni abbiamo magari non so un error code la descrizione c'è già magari abbiamo una reason abbiamo la inner exception che spesso che fa già parte delle eccezioni su molti linguaggi possiamo indicare abbiamo una libreria lanciamo l'eccezione di alto livello per dire si è verificato un errore nella libreria x e poi possiamo passare nell'inner exception magari l'eccezione l'errore che abbiamo intercettato che ci impedisce di portare a termine un'operazione di business quindi l'errore di business rappresentato dalla nostra eccezione la inner exception che sta dentro è la causa che ci ha portato come dire a questo a questo esito nefasto di quello che stiamo cercando di fare quindi insomma lì bisogna ovviamente sempre pensarle bene in modo robusto e fornire quante più informazioni possibili su Qtas dell'errore che siano utili perché non ha senso poi mettere tanti parametri alla fine come dire non se non sono utili quindi senza eccedere altre cose quindi Qtas deve essere robusto oltre che è leggibile quindi tenere sempre separato generazione degli errori gestione degli errori e la logica applicativa che può portare a questi errori in sono ambiti distinti e quindi in una funzione vanno comunque sempre possibilmente come dire isolati qui c'è un capitolo anche sul fatto questo è un po' un po' rigida come come regola il fatto di non restituire mai nil possibilmente come valore nil e poi in delphi è il null di csharp di java ma anche di javascript di tanti altri linguaggi cioè ad esempio non so abbiamo un metodo che cerca i dati di un cliente il cliente non c'è in certi casi restituire un valore null sta a indicare che non abbiamo trovato il cliente ecco questo teoricamente è da evitare perché anche se sembra molto come dire intelligibile molto facile da verificare tanto ci costringe ogni volta a verificare quale valore di ritorno e oltre a questo è una delle cause principali di una gamma di errori che diventa anche difficile da come dire diagnosticare questo perché perché magari noi restituiamo nil null da un metodo che da un oggetto che noi utilizzeremo per andare a recuperare altri dati cioè molto spesso il null che restituiamo viene travasato viene restituita una funzione chiamante che a sua volta è stata chiamata da un'altra funzione che riceve a sua volta un null e a un certo punto finisce che questo null noi andiamo a metterlo in una variabile e ci chiamiamo un metodo cioè andiamo a utilizzare un oggetto che ha un riferimento non impostato e otteniamo il famoso null reference exception o indirficial access violation perché è un puntatore non valido il problema qual è che noi vediamo l'ultimo di questi null cioè a un certo punto andiamo a chiamare un metodo su un oggetto che sta in una variabile la variabile ha un valore null e quindi non possiamo ovviamente però quel null magari c'è stato restituito da una funzione che ha avuto il null da un'altra e così via quindi a volte non siamo in grado di determinare con efficacia e velocità da dove è arrivato quel null quindi in prima istanza e dobbiamo continuamente se abbiamo un metodo che può restituire null verificare che il valore non sia null prima di chiamare dei metodi e quindi andiamo a ficcare un po' di un po' di if laddove sarebbe meglio come dire non non metterli per sarebbe meglio quindi analogamente anche null come parametro una funzione non dovrebbe accettarlo allora in certi contesti culturali ci può stare che null sostituisca come dire il fatto di dire non ti sto passando un riferimento specifico magari voglio scegliere un default qualcosa del genere quindi adesso queste ovviamente sono regole che vengono indicate come per come per dire segui questa regola e come dire ti risparmi un problema però siamo liberi di scegliere cioè sappiamo cosa andiamo incontro se vogliamo stare attenti ma comunque utilizzare i valori null lo possiamo anche fare però sappiamo quali sono le possibili conseguenze cui andiamo incontro e è capitato praticamente a tutti quindi qui cioè per risolvere il problema poi qual è la soluzione ad esempio utilizzare dei pattern come null object che ci consente di dare un valore che rappresenta comunque non ho trovato il dato però implementato in modo che io successivamente andando a chiamare dei metodi ottengo nessun effetto di per sé ma non devo testare se il valore è null oppure no quindi il nostro il null object è un è un valore che se testiamo la gerarchia capiamo che rappresenta il un null ma non è null e quindi non incappiamo nell'errore però sì sappiamo che sono cose cose come dire un pochino particolari e questo è già un po' più difficile siamo già molto abituati come si diceva all'inizio molti di questi errori che facciamo o comunque pattern che seguiamo sono derivati da un'abitudine che abbiamo di fare le cose in un certo modo e che dovremmo sforzarci di cambiare per magari col rischio di introdurre errori diversi all'inizio finché non ci siamo abituati ma con dei vantaggi a lungo termine che spesso ci sono e sono anche efficaci cioè ci sono tangibili per dire pesante termine altri consigli utili misti non don't repeat yourself quindi evitare di scrivere più volte la stessa logica magari fatta da più istruzioni che sono che sono diverse quindi utilizzare tutti i paradigmi che abbiamo a disposizione come la OP la OOP la AOP cioè Aspect Oriented Programming se ad esempio vogliamo fare qualcosa prima e dopo un metodo ci andiamo a creare dei wrapper andiamo a creare delle strutture cioè sfruttiamo i pattern COP me lo sono inventato era solo per per mettere dentro un po' di sigle acronimi a tre lettere per fare l'asino ma non stare attenti alla struttura quindi usare un solo return possibilmente nel corpo della funzione e ridurre il numero di break e continue non usare mai go to l'altro giorno ho trovato un meme efficace che spiegava in termini architettonici c'era un esempio di go to c'era una scala che all'esterno di un palazzo di vetro che andava da una finestra all'altra è molto antiestetica e quindi era proprio l'esempio calzante di cosa vuol dire mettere un go to nel codice e rifattorizzare le funzioni prima che esplodano ovvero se siamo come dire gente che rimanda alla sistemazione di codice che può essere rifattorizzato cerchiamo di farlo prima che diventino prima che le righe di codice diventino troppe perché nel momento in cui diventano diventano tante più diciamo il metodo aumenta ovviamente più la complessità aumenta più a un certo punto diventa anche difficile rifattorizzarlo e abbiamo una bestia di funzione che non riusciamo più a pilotare dopodiché possiamo o riscriverlo nel momento in cui c'è nell'opportunità oppure e man mano che si fa refactoring magari si vanno a separare delle parti più piccole di un codice più grande eventualmente farci degli unit test poi eventualmente possiamo anche fare una live sul testing in Delphi cioè creare degli unit test per verificare che quelle parti funzionino cioè quantomeno diano i risultati che ci aspettiamo e in questo modo non solo facciamo un'opera di refactoring di semplificazione ma aumentiamo anche la qualità del codice che scriviamo e la sua verificabilità e quindi stiamo facendo le cose per bene in poche parole dal punto di vista una menzione sui commenti allora il codice cattivo quando lo troviamo non andrebbe commentato con scritto qui non si capisce niente ma quello che in realtà stiamo cercando di fare è questo ciò che dovremmo che dovremmo fare tecnicamente è dire prendiamolo e riscriviamolo adesso qui ovviamente questo è un suggerimento forte perché a volte non è possibile farlo ma quando è possibile c'è chi per evitarsi i problemi magari lo evita anche se un come dire una fattorizzazione si potrebbe anche fare quindi come dire non bisogna essere timidi nel momento in cui si vede il codice è scritto male se ce n'è la possibilità bisognerebbe metterci lì e come dire andare un attimo a sistemare se possibile anche perché dopo non si sistema più senza però andare a commentare scritto ho fatto le cose in questo modo commentare con del buon senso quindi sui commenti c'è proprio un capitolo che parla solo di quello con un sacco di consigli utili bisogna commentare il codice ma usare il buon senso un commento nel punto giusto può essere utilissimo perché laddove c'è una parte magari non rifattorizzabile che fa qualcosa anche di semplice ma non immediatamente comprensibile avere un un'indicazione per chi legge nel futuro può essere una cosa utile quindi sono uno strumento ovviamente da utilizzare ma riempire tutto il codice di commenti frivoli e dogmatici come si dice non serve a nulla un esempio era quello iniziale di quel return true con scritto restituisce un esito positivo quello è un esempio di codice che ho scritto io io per un po' di tempo ho avuto l'abitudine di commentare tutte le singole righe che trovavo a un certo punto mi sono dovuto disintossicare perché c'è un rapporto commenti codice del 50% e anche se sono veloce a scrivere era più il tempo che si impegnava nel pensare a cosa stavo a cosa scrivere nel commento per spiegare una riga di codice che non scrive il codice effettivo quando se il codice è scritto bene dovrebbe essere comunque già self explaining come dire cioè dovrebbe essere già più che comprensibile in realtà il libro è ancora più integralista perché dice che ogni volta che c'è un commento è sempre un fallimento quindi a qualsiasi livello quando ho letto questa cosa ho detto porca miseria vabbè io ho un rapporto 50-50 sono un caso a parte ma anche chi come dire ne beneficia però effettivamente c'era questo esempio non era così ma era molto simile perché comunque fatto in java dove spiegava ad esempio qual è la versione migliore perché dice c'è un punto dove va a controllare se vediamo questo questo esempio di codice magari lo metto un pochino più in grande la versione 1 che dice se i flag c'è un end logico tra i flag dell'impiegato e questo hourly flag cioè va a testare se ha una paga come dire oraria e oltre ad essere pagata ora se ha un'età maggiore di 65 anni cioè questo è quello che il codice fa ma perché lo fa c'è scritto nel commento cioè il commento ci va a indicare che questo tipo di di logica di di condizione è fatta per controllare se l'impiegato è come dire è possibile applicargli dei full dei benefit in base a questa condizione quindi qui chi ha scritto il codice è stato bravo perché ha fatto questa verifica è sopra scritto però anche a cosa serviva è un fallimento comunque perché sotto c'è quello che in realtà avrebbe dovuto fare ovvero creare una funzione che si chiama nell'oggetto employee che si chiama is eligible for full benefits cioè la logica di quell'if diventa il result di una funzione il cui nome va a dirci esattamente che cosa viene fatto lì dentro quindi la logica rimane la stessa ma viene isolata sta dentro una funzione la funzione racconta la storia il nome la qualifica perfettamente e a quel punto il commento non serve più perché il nome dice tutto e può essere eliminato quindi questo è proprio il caso da manuale di come un commento rappresenta un fallimento non perché è un male metterlo ma la sintassi e il linguaggio ci consentono di incapsulare quella logica in qualcosa che è ovviamente una funzione che contiene la stessa logica ma la qualifica ci dice cosa serve e a quel punto non non ci serve più il commento e ovunque noi abbiamo bisogno di testare quella particolare questo è una sorta di di status del nostro oggetto di business che sta a indicare se questo impiegato è elegibile for full benefits ci basta in ogni punto andare a chiamare la funzione mentre magari lasciarla come sopra col commento e separata fa sì che in un altro contesto dove noi dobbiamo fare qualcos'altro sempre se il nostro impiegato può avere i full benefits siamo tentati magari di ripetere quell'if e quelle condizioni ovviamente possono sempre cambiare quindi nel momento in cui noi abbiamo preso quella logica e l'abbiamo isolata in una funzione con un nome ricercabile è sufficiente che andiamo lì e se noi ovunque chiamiamo quella funzione per avere quell'informazione correggiamo il codice in un punto unico e siamo a posto mentre nell'altro caso non sappiamo mai se non andando appunto a fare una ricerca cercando ad esempio i flag hourly flag o lage se ci sono altri punti dove questa viene utilizzata per determinare sempre la stessa condizione quindi ovviamente nel secondo caso qualsiasi integrazione o verifica di quella condizione ci risparmiamo un sacco di tempo quindi questo è un esempio calzante di come i commenti non siano un male ma lo diventano nel momento in cui stanno a qualificare del codice che noi possiamo far diventare una piccola storia ovvero una funzione a sé stante dandogli un nome che rispetti i principi del clean code che abbiamo visto quindi questo è forse uno dei casi più eclatanti che hanno un impatto posso confermarlo tra l'altro io spesso uso delle classi anche come model tutte le condizioni possibili di logica se sono isolati in un metodo sono ovviamente molto più utilizzabili e poi ovviamente seguendo l'esempio della slide di prima adesso che la vado a recuperare non questa ma dove l'abbiamo vista vabbè non vado così indietro dove c'è scritto di creare anche dei test nel momento in cui noi facciamo questo eligible for full benefits cioè stiamo fattorizzando il codice sopra nel passaggio a quello sotto andiamo a crearci magari uno unit test dove noi scriviamo crea un employee gli imposto i flag è un'età di 70 anni e vado a testare che questa funzione dia true gli spengo il flag e testo che sia forse lascio il flag e metto un'età di 30 anni e testo che sia forse cioè nel mio rifattorizzare poi andando a creare i test andiamo anche a verificare con uno due tre casi quelli che sono e ci fa molto presto scrivergli un po' di copia e colla che il mio metodo con un employee che è presente a diverse condizioni ci dia l'eligible for full benefits che è il valore che ci aspettiamo per questa funzione e quando vediamo che va noi ovunque la utilizziamo sappiamo che quando facciamo punto scriviamo questa funzione questa funzione è affidabile è corretta quindi c'è tutto anche un concetto di trasformare il codice in una sua versione che ci dà più confidenza nell'utilizzarlo perché sottoponendolo a certe verifiche o a certi tipi di refactoring siamo molto più confidenti quindi ci lavoriamo lavoriamo molto meglio ma i test sono lontani dal codice lontani in che senso leggo di traverso perché leggevo prima sul telefono ma mi è morto però posso usare l'altro e collegarmi con collegarmi con oddio spero di non interrompere la diretta ma se si tiene premuto sul faccino di solito ah vedo anche che Maurizio ha lanciato una scoregina non l'avevo notata non l'avevo sentita perché essendoci solo l'audio se avessero anche la puzza me ne sarei accorto però alle 22 30 e quindi no dicevo dicevo il commento per capire cosa intendi nel senso che li uso come li uso come documentazione non ho una lettura immediata del significato del codice beh diciamo che se hai un test che verifica il funzionamento di quella funzione la funzione è un nome comprensibile cioè non è che il test rende il clean code il clean code è togliere il commento fare la funzione e poi a questo punto questo ci dà il beneficio di avere una qualcosa che possiamo sottoporre a test mentre prima non lo era ad esempio perché quell'if che noi vediamo nell'esempio 1 sicuramente è un if che sta in una funzione più grande e che ha bisogno di testare quella condizione per fare qualcosa ma quella condizione non essendo isolata non è testabile individualmente quindi ecco che cioè applicando un refactoring seguendo i principi del clean code perché a me a volte chiedono io ho questo progetto guardo un po' il codice si possono fare i test cioè non è che al progetto gli metti sopra un etichetto testabile diventa testabile cioè va scritto in un certo modo e quindi il secondo il secondo esempio ti fa capire come puoi isolare un pezzo di logica eliminare il commento e avere qualcosa che puoi rendere testabile però il fatto che sia testabile non è clean code cioè non è che te lo rende più leggibile è solo il fatto che lo puoi testare e puoi farci sopra gli unit test ma ovviamente gli unit test continuano a avere la valenza che hanno cioè controllare che il risultato di una funzione ti dia il valore che ti aspetti di avere in base ai parametri che con i parametri il risultato che è atteso la logica funzioni come ti aspetti magari da eseguire in automatico quando fai un check-in da documentare per documentazione cioè sì quello non cioè il test su un codice non lo rende leggibile però diciamo che avere dei test che creano ad esempio un employee mettono dei valori chiamano il metodo e fanno vedere cosa si aspetta è utile per documentarti cioè hai già isolato la logica in una funzione quindi di fatto hai una funzione hai rifattorizzato bene i test aiutano a capire com'è che quella funzione va utilizzata per determinare una certa condizione quindi sì comunque è sempre una sorta di documentazione alla fine dei conti documentazione non è leggibile di fatto come si può dire dallo sviluppatore cioè per lo sviluppatore ovviamente non per il cliente ma evitare commenti a perdere sì a volte bisogna stare attenti che nel fare il refactoring c'è del codice che potrebbe rimanere ad esempio in un punto dove il codice viene rimosso e ci viene lasciata una chiamata e evitare come destinati a perdersi o rimanere non aggiornati ad esempio quei commenti troppo prolissi che riportano ad esempio a volte li ho trovati dei pezzi di non so degli interi pezzi di analisi che vengono copiati in un codice dopodiché ci sono delle modifiche successive chi le fa non va lì a rileggersi tutto quello che c'è scritto e quindi aggiornare quello che è indicato in quella mezza analisi scritta direttamente nel codice quello che poi succede è che lì c'è scritto una cosa e il codice ne fa un'altra quindi evitare di utilizzare i commenti come analisi direttamente nel codice ci sono per quello c'è anche la documentazione xml c'è la documentazione del codice e quella ad esempio è sicura perché si sposta col codice e viene mantenuta per il resto c'è un conto è fare attenzione a mantenere la giornata perché molto spesso c'è chi li scrive volentieri ma poi non li va a modificare e se le cose cambiano insomma devono cioè evitare di esagerare nel fare troppo lunghi perché poi sono da mantenere e bisogna scriverci sempre quello che è l'attuale verità che poi in realtà la fonte poi di verità ultima è quella del codice a tutti gli effetti quindi non commentare il codice sorgente esatto cioè questo sta a indicare di non trasformare le istruzioni in un commento c'è ad esempio dei tool come sonar cube perché qualcuno dice ok devo fare questa modifica ma non voglio perdere il codice allora lo commento e poi dopo lo mettono magari così pubblicato così nel nel su scontro abbiamo un programma che a scrollare col mouse ci metti dieci minuti sono diecimila righe e poi ti trovi che le istruzioni utili sono tre perché resta tutto commentato io spesso con questo dibatto con collaboratori colleghi che scrivono dei commenti e ci mettono ad esempio commentato su richiesta del cliente allora tu vai lì togli la riga e quando fai la commit nel tuo buon sistema di su sconto che può essere git subversion eccetera metti nei messaggi di commit ho tolto la riga perché me l'ha chiesto il cliente e lì ci sta la storia delle modifiche e non dentro un commento che ti mantiene il codice anche perché a volte mi capita di cercare variabili per vedere l'uso e me le ritrovo anche citate in mezzo a dei commenti di codice che non è operativo quindi esatto leggevi i commenti è meglio basarsi su messaggi di commit sensati esatto fare delle soprattutto con git che è più facile magari isolarle io a volte faccio delle modifiche massive però magari faccio una commit alla volta e in ognuno cerco di tenere isolate le modifiche e di scrivere la motivazione cosa è stato cambiato e perché in modo che sia la storia del sus control a narrare quello che è successo e non che questo ti è sempre nel codice anche perché dopo tanto poi quei commenti contengono codice che per non perderlo ho paura di perderlo viene lasciato lì ma quello che c'è sotto che è la variante è stata già variata dieci volte quindi non lo andrai poi mai o lo tieni tutto e a quel punto diventa un file ingestibile o non lo andrai mai a recuperare perché già indietro di una due o n versioni e il problema è che non lo sai perché la storia l'hai messa direttamente nel sorgente invece di metterla sul scontro perché se vado sul scontro io posso fare un cherry picking e andarmi a prendere la versione di una certa data committata da qualcuno per un certo motivo su un certo branch cioè quindi sì non commentare il codice è una frase ambigua lo so perché quando hai ragione perché quando l'ho letto prima ho detto come e dopo sotto c'è specificato non commentare il codice sorgente stesso cioè tra l'altro sì ci sono dei tool come sonar cube che quando trovano dei commenti che finiscono con dei punte virgola vanno nei matti perché in c sharp ad esempio perché sono tutte ovviamente righe di codice commentate che ingannano solo la vista e non servono praticamente niente però spesso anche questo si fa perché il codice sta lì è immediato spesso c'è il cliente che ci chiede di fare il rollback spesso però non vuol dire sempre se noi lo facciamo sempre ci troviamo un sacco di codice che alla fine non e a volte ci sono anche dei side effect ho visto degli applicativi lato server dove veniva commentata un'istruzione col commento html che quindi rende commento un qualcosa che però nella pagina finiva perché era il commento era il commento html di qualcosa che era lato server non commentato lato server quindi sulla pagina ci arriva non la vedi perché l'html trasforma quella cosa in un commento ma poi c'era un plugin che si attivava e faceva tutta una serie di danni quindi anche lì meglio toglierlo e fare una commit solo con quella modifica e evitare di tenerselo sempre lì perché a un certo punto non ci si capisce più una mazza e anche i to do bisogna fare attenzione usare con parsimonia non abusarne cioè i to do vanno messi quando c'è buona possibilità che uno poi vada lì e la cosa la faccia perché ho trovato un sacco di progetti dove dentro c'erano tanti di quei to do e leggendo la descrizione di cose che andavano fatte black magic praticamente posso dare per scontato che nessuno lì si mette a risolvere quel to do cioè non viene più toccato a volte a me capita che ci siano delle cose magari da rivedere tipo to do da valutare se ottimizzare però di solito uso degli hint uso delle altre parole che stiano a indicare cioè che non manca nulla però magari si può migliorare eccetera però di to do quando c'è un progetto pieno di to do diventa prima o poi lì e to do bisogna bisogna farlo perché sennò qui c'è la to do dell'uccello vedi poop on stuff caccare sulla roba beccare il terreno almost die che non a rischiare di morire perché magari ti investe la macchina giusto e poi di nuovo si riparte da cacare sulla roba e quindi ho scelto delle belle immagini c'è poi una parte sulla formattazione diciamo che poi comunque siamo quasi in fondo in realtà ci sarebbe da dire tante altre cose cioè il libro è molto più prolisso io ho tirato fuori la formattazione importante quindi anche perché pur se il codice funziona se dobbiamo presentarci in una software house farci assumere cioè la formattazione che diamo al codice dimostra la cura che abbiamo per i dettagli c'è un po' come l'impiattamento degli chef quindi come sempre c'è la vita di un piccione e c'è ragione anche giocare a scacchi fanno presto perché tanto c'è il famoso c'è la famosa proverbio che basta che tirano giù tutte le pedine e fanno appunto pupon staff e sono a posto no diceva la formattazione denota anche la nostra come dire professionalità quindi se il codice sembra scritto da degli marinai ubriachi questo è l'esempio che viene portato si può pensare che comunque alla fine la stessa sciatteria venga applicata dalla persona che ha scritto quel codice in tutti i piccioni gemmi di scacchi a me mi piacerebbe capire come ho mai giocato a scacchi ma mi è incuriosito dopo la serie di Netflix quindi diciamo che è un po' anche un biglietto da visita ma è anche importante perché formattare il codice almeno permette di leggerlo correttamente quindi qui ci sono un po' di suggerimenti legati al fatto che ogni modulo di codice sorgente è un po' come un articolo di giornale quindi il libro usa questa metafora per dire che non deve essere troppo corto ma nemmeno troppo lungo quindi non deve essere TG4 online ma non deve essere neanche il post per usare cioè deve raccontare una storia quindi questo vuol dire che come si raccontano le storie nei libri la struttura ovviamente è importante il titolo deve essere rappresentativo quindi se abbiamo un modulo di codice una unit un namespace o una classe o qualcosa che diciamo fa da intestazione deve essere curato e la lettura deve essere favorita top down quindi tutto ciò che sta di alto livello nella parte superiore è ciò che sono dettagli implementativi quindi o cose di basso livello oppure robe private nella parte inferiore poi questo dipende anche un po' dal linguaggio perché per certi caso tra l'altro formatare il codice significa rafforzare il concetto di condivisione e convenzione all'interno del team riduce gli attriti cioè esatto a meno che non ci sia un team come alcuni che ho visto io dove c'è uno standard nel senso che ognuno ne ha uno suo di diventare con due caratteri con quattro l'altro che a volte creano dei problemi anche sul su scontro perché il primo rendenta tutto l'altro rendenta tutto di nuovo in realtà hanno cambiato una riga non ci si capisce niente cioè ha effettivamente anche tant'è che gli id come viso studio come delfi come tanti altri lo fanno in automatico ed è anche un sistema configurabile perché non è detto che tutti debbano formattare allo stesso modo ma all'interno di un team condividersi i setting è utile perché comunque se cerchiamo qualcosa dobbiamo tutti essere almeno d'accordo sulle minime convenzioni da usare due spazi ovviamente che io ne metto non mi ricordo se ne metto due o quattro perché io faccio tab lui mette gli spazi ma secondo me dopo vado a controllare sul C sharp sicuramente metto quattro gli spazi su delfi non sono sicuro mi fermo a due non vado così comunque l'importante è che il valore sia condiviso da tutti poi c'è la famitica scena di Silicon Valley che ha citato anche Antonello Carlo Magno che non so se è collegato un collega collaboratore sviluppatore delfi che ha commentato su LinkedIn con il filmato di Silicon Valley la serie dove c'è la parte del litigio tra tab e spazi che è esilarante anche se anche se ormai invece a livello orizzontale quanto deve essere lungo una riga di codice allora i programmatori preferiscono linee corte ma le scrivono tutte lunghe la difficoltà di lettura diciamo qui viene dato un parametro dicendo che la difficoltà di lettura aumenta esponenzialmente quindi più noi accediamo quelli che sono gli 80 caratteri che è un po' il limite standard cioè qui siamo un po' ai tempi della stampante che si fermava ad aghi però superata quella misura più si allunga più la legibilità cala in maniera esponenziale quindi non lineare drastico gli spazi vanno usati in modo proficuo ad esempio se separiamo delle righe magari le separiamo perché è un blocco che all'interno della stessa funzione racchiude una parte logica cioè anche lì bisogna usarli ma bisogna usare gli spazi in modo da veicolare come sempre un significato e assolutamente non incolonnare i nomi tipi di dati a livello di accessibilità questo l'ho visto fare anche oggi questa settimana cioè il fatto che le variabili hanno un nome come dire più lungo più corto però dopo le variabili i due punti sono tutti cioè che separa il nome dal tipo sono tutti allineati in verticale tutti i tipi sono tutti allineati si suggerisce di non farlo perché perché c'è il solito problema che poi qualsiasi formatter li annulla questi questi allineamenti e comunque vanno sempre mantenuti quindi ci sono visto delle funzioni con tante variabili locali che venivano dichiarate nel stesso punto tutte perfettamente allineate che il codice era quasi cioè il codice è quasi asci art che però non rende il codice più leggibile rende solo il file più grafico e quindi e poi vanno sempre tenuti in colonnate perché ti capiterà senza o lasci molto spazio come ho visto fare e quindi va a scapito della lunghezza oppure se ne lasci poco ti capita prima o poi la variabile che sfora quella lunghezza e quindi devi riallinearle tutte cioè non c'ha senso se non sono leggibili perché ce ne sono dieci e hai bisogno di fare praticamente una tabella asci allora vuol dire che stai sbagliando a fare una funzione con dieci variabili di tipo diverso che sono da incolonnare per leggere cioè devi come dire rifattorizzare devi fare ah sì cioè formatter ma sì può darsi che ho detto di no ma forse qualcuno lo fa però io non anche se automatizzato non cioè perché viene fatto perché ce ne sono tante quindi si sta evidenziando un altro tipo di problema cioè il fatto che ci sono troppe variabili e come fare una funzione che sta raccontando una storia troppo complicata quindi e troppi personaggi quindi è una telenovela che quindi alla fine anche se sono come dire entusiasmanti per certi versi sappiamo che la logica della telenovela segue segue i turni di ferie degli attori invece che la trama per cui io comunque non lo faccio mai come quindi l'indentazione a maggior ragione è fondamentale imprescindibile tant'è che tipo su python addirittura è quello che dà la struttura il codice quindi io non mi chiedo come mai ci siano così tanti fan di python che poi quando scrivono codici in altri linguaggi lo scrivono così è tutto disordinato che voglio dire dovrebbero essere ben abituati altrimenti in python non funziona quindi l'indentazione deve sempre essere evidenziare i blocchi del codice e i suoi costrutti quindi deve dare praticamente risalto annetto che l'idee ci mette anche del suo a quello che sono le istruzioni che fanno parte magari di un blocco o di una sezione quindi devono avere un po' di significato insomma la lettura del codice deve essere scorrevole non perché è intabellato bene ma perché io devo vedere bene quello che fa e capire al volo quello che sta che sta facendo si sfogheranno la frustrazione è vero non ci ho mai pensato è vero perché ho visto anche chi sviluppa in C Sharp che usa la convenzione del Pascal e dichiara tutte le variabili all'inizio di metodi lunghissimi invece che in linea quando c'è da sempre c'è il bloc scopo ad esempio in C Sharp invece in se non c'è la sezione o si limita o si fanno le funzioni piccole diciamo che ti aiuta in questo caso come dicevi prima Holistic è efficace quando è condivisa in team cioè questo è proprio il suo cioè tutti parliamo la stessa usiamo la stessa grafica usiamo le stesse convenzioni quindi alla fine anche se il codice ne ho scritto io questo è un grosso aiuto più che più che i pattern nell'architettura che sono cose che a volte vanno un attimo approfondite se c'è un po' di codice un po' in avanti un po' indietro anche se l'architettura non è complessa la lettura è impossibile quindi tutti i tool permettono praticamente di configurare il formatter e anche di condividerlo perché tutti i parametri finiscono in un file XML quindi addirittura si può fare anche il check-in con il suo scontro e adesso l'abitudine è anche condividere l'editor config cioè anche un file con la configurazione dell'editor quindi come dire la cosa si sta anche perfezionando perché la condivisione riguarda anche la configurazione del tool di sviluppo e non solo la formatazione e alcune cose del codice quindi questo ovviamente è molto importante ed è cioè sembra un vantaggio da niente ma quando poi si lavora con dei sistemi di una certa complessità e c'è da andare in produzione sono di sono di grande aiuto strutture dati ma quanta roba c'è ancora giusto per giusto per curiosità che do un'occhiata dove sono arrivato accidenti c'è ancora un sacco quindi io pensavo di avere quasi finito e invece ci sono ancora un sacco di slide visto che sono le 11 pensavo di accelerare invece qui siamo siamo ancora dunque questo quindi è un altro capitolo strutture dati quindi quasi quasi mi fermerei qui non pensavo di fare un episodio 3 ma finisce anche il terzo è come Rambo quindi ci sarà l'episodio 3 poi dopo faremo il remake più avanti ci fermiamo qua sulle strutture dati per il momento ok perché dopo diciamo apriamo un capitolo che anche quello ha un po' di un sacco di come dire di di cose da dire tanta roba esatto mi vengono le parole ormai è è il momento di è sparito il gatto sarà andato che era un po' agitato ok quindi direi che per stasera ci ci stoppiamo ci stoppiamo direttamente qui siamo in in pochini direi sì non è un argomento poi con queste slide avevo fatto effettivamente un come dire una trattazione molto molto approfondita molto grossa quindi come dire ce ne avevo proprio sviscerato anche perché il libro è lungo io ho cercato di tirare fuori quanta più roba possibile dai concetti ci ho detto prendiamo quello che è utile e alla fine di di cosa ce ne erano talmente tante che come dire si faceva fatica a lasciare indietro dei pezzi per per non per non lasciare indietro qualcosa di buono quindi dunque siamo relativamente in pochi quindi direi guardavo se c'era qualcuno collegato ma è finita anche la live visto che stasera erano partite diverse live che avevo prima le indicazioni ma qua non si butta via nulla quel libro lì lo consiglio proprio perché comunque a prescindere dal linguaggio è veramente una miniera d'oro di cose che poi alla fine esercitandosi sono utili quindi niente ci tocca fare anche l'episodio 3 mannaggia quindi no va bene sempre che non volevo poi parlare troppo sempre dello stesso argomento però effettivamente sono molte cose da dire quindi vale la pena sviscerarlo poi magari la prossima volta duriamo di meno ok direi che non mi rimane altro che fare come trasmissioni tv ringraziare che è rimasto collegato che che ha aiutato listic che sempre dà un sacco di cose di curiosità e quindi sempre presente ringrazio veramente tanto per il supporto e niente ci vediamo alla prossima live direi giovedì giovedì prossimo salogio speriamo di no ma alla fine c'è un'altra ventina di slide quindi già dovremmo fare anche perché dopo volevo fare un po' di altri esperimenti quindi qualcosa anche di più stimolante perché la teoria è bella ma è bella anche un po' la pratica e siccome volevo sperimentare delle cose nuove magari ho detto boh quindi buonanotte Maurizio visto il messaggio buonanotte a tutti e direi che ci stasera faccio anche un altro esperimento esperimento i titoli di coda quindi che sono curioso di vedere se se funzionano quindi buonanotte a tutti e direi alla prossima alla prossima live grazie a tutti buonanotte alla prossima grazie